Si lavora a buon abitacolo per porre fine alla grande sete che sta affliggendo ormai la cittadina da più di una settimana. Domenica si è svolto il sopralluogo alla sorgente alla presenza anche del professore Domenico Guida, geologo dell'Università di Salerno, da cui sarebbe emersa una possibile causa della situazione, cioè una strozzatura derivante da un lieve cedimento del terreno in una zona già particolarmente soggetta a microfrane. Questa mattina, un po' più in basso della sorgente, gli operai sono intervenuti per verificare se il problema è effettivamente questo e se si trova in quel punto. All'esito si potrà eventualmente intervenire con un bypass per ridare l'acqua alla popolazione. Si intravede uno spiraio, ma di certo la situazione è delicata. Buon abitacolo, pur con tutti gli alti e bassi vissuti da sempre in merito all'approvvigionamento dell'acqua, non aveva mai attraversato una crisi idrica di questa portata, non solo per la sua durata, ma soprattutto per le difficoltà di individuare il problema e venirne a capo. Fino ad ora, nonostante siano stati effettuati diversi controlli e interventi e siano stati aperti tutti gli sfiati, l'acqua ha continuato a non arrivare nelle case. Intanto però, martedì, dovrebbero riaprire le scuole elementari e le medie, in quanto ci si è organizzati con delle autobotti poste dinanzi agli edifici scolastici. Per la scuola dell'infanzia, invece, bisognerà attendere mercoledì. Dopo l'appello lanciato dal sindaco Giancarlo Guercio, la protezione civile regionale e la prefettura sono intervenute per garantire l'approvvigionamento con autobotti di acqua potabile e non potabile per i vari usi. Al momento sono presenti delle cisterne fisse, una nei pressi dell'ambulatorio e un'altra nei pressi del parcheggio del supermercato.